Mancano quattro curve alla bandiera a scacchi per il campionato del Cesena, tre delle quali lontano da casa. I bianconeri sono ancora al comando del girone F di Serie D con due punti di vantaggio sul Matelica in risalita. Cavalluccio non in forma smagliante in virtù degli ultimi risultati conseguiti, uno su tutti il pari maturato col Montegiorgio. Dopo domenica e lunedì ho analizzato la partita, adesso è il momento di guardare avanti. Di pensare a queste quattro partite, quello che è successo prima non è che può cambiare le cose, quindi è inutile pensare. Bocciato il ricorso per la squalifica di Ricciardo, Giuseppe Angelini dovrà rinunciare al naturale sostituto, ossia Ciro De Angelis. Rientra invece Mario Noce, ma il tecnico pensa a curare soprattutto l'aspetto mentale. In questo momento bisogna essere positivi, bisogna credere nella squadra, nell'allenatore, nella società, in tutti quelli che lavorano per il Cesena. Poi alla fine dell'anno ognuno dirà quello che deve dire. Il Cavalluccio arriva quindi a vasto con alcuni dubbi. Una certezza però c'è, di fronte compare una vastese agguerrita e in salute. Giocano 5-3, 1-1, hanno giocato le ultime partite. Le ultime tre partite hanno fatto tre vittorie e si sono tirati fuori dalla zona calda e probabilmente con noi giocheranno così.